Stanno arrivando dieci zombie Ma sei matto? Sta facendo giorno però, quindi resisti No, io ho tre cuori Non sono accorto adesso E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Steph E questo oggi giocheremo a Minecraft con la quasi vanilla craft Siamo tornati in questa bellissima serie In cui ci attenderà una sfida Ma prima abbiamo una cosa importantissima da dire Che cosa? Dobbiamo ringraziare perché ci hanno dato Un supporto enorme per le serie Di The Sims e di Yandere Io sinceramente non me l'aspettavo Avevo un po' paura per Yandere che magari non sarebbe Piaciuto, ma sono felicissima Ci avete riempito di commenti Ma non si ringrazia per queste cose Bisogna darle per scontato Ma sei un maleducato Cioè io volevo essere carina Ringraziare un pochettino E tu devi fare sempre il maleducato No, in realtà ci ha dato un sacco di piacere Anche perché con The Sims ci stavamo lavorando da un mese Quindi avevamo paura che neanche si notasse Il lavoro che c'è stato dietro E invece per tutti i commenti che abbiamo ricevuto E tutti quei like direi che l'avete capito come E siamo felicissimi E adesso ci mettiamo a piangere Perché? Perché è commovente questo discorso Ma non è vero Ok, ok, ok Entriamo nel vivo della puntata Ok Mr. Who ci ha già lasciato una sfida Cosa? L'ho letta senza di te Cioè quando? Prima Cioè tu sei entrata nel server e hai parlato con Mr. Who Esatto, esatto L'hai conosciuto proprio? Sì È simpatico? Sì, è molto simpatico per un motivo Ok Perché mi ha detto che non ti sopporta E sta cercando di farti fuori Quindi diciamo che ha detto Che non ti vuole rendere partecipe È solo che a me non va tanto di fare le cose da sola Ok Quindi ho detto dai ti lascio nella serie È solo Come ruota di scorta Esatto Perché ho detto magari mi serve aiuto Magari hai capito Ci sono quelle situazioni in cui devi combattere con un mob Ti butto davanti E mi riparo Non ho parole Ci sei rimasto male Dai dai Spiega la sfida che è meglio Prima che ti insulti Allora per questa sfida Ok Se non ti ricordi Abbiamo tutti i materiali pronti Hai notato che c'è quella cespiana Sì bellissima Che la puoi vedere E dovremo andare in miniera E sai quale è l'obiettivo? Quale? Raccogliere 35 pezzi di ferro a testa Ok A testa Fin qua nulla di strano E l'altra cosa che c'è Perché tu dirai Ok è facile raccogliere il ferro Esatto Ma cosa ci vuole? Il fatto è che una volta entrati in miniera Non potremo più uscire Quindi dobbiamo fare tutto in una botta Capito? Quindi è proprio una maratona Di minatori Di minare Diventiamo come i sette nani Capito? Mi piace Una volta che entri non esci più Ma poi ce lo teniamo il ferro? Non lo so Sai che questo non l'ha specificato? Io non so cosa vuole fare Non so se ci dirà qualcosa una volta che finiamo Quindi per ora Noi lo ascoltiamo E andiamo in miniera Ok Siamo pronti? Vai Allora prendiamoci tutta l'attrezzatura Io mi prendo Quattro picconi di pietra Poi Ma ci siamo dimenticati Le spade? Io la spada ce l'ho Io la spada ce l'ho Quindi parla per te C'è questa metà rotta Metà no Lo scudo è mio Me lo ricordo Questo è il tuo piccone Vabbè io prendo tutto Tanto nel caso Le bistecche le dividiamo? Le ho già prese Prendi Prendi Ah prendo tutto io Le stavo dividendo Poi prendi le torce Le torce le prendo io Il legno lo prendo io Che fa comodo Questo lingotto di iron Ci sono 39 bistecche Sono tue Io ne ho 16 Ma io anche qua Ah tu sei pronto? Sì 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 Il legno lo prendiamo? Non si sta Ah l'hai preso tu L'ho preso Allora aspetta Mi stai incasinando Organizziamoci un attimo Il legno l'hai preso tu? Sì Ok Io i miei picconi Ne ho uno mezzo rotto Che sinceramente Scusa Come ne faccio Di sto piccone Hai delle torce Sì Le torce ce le ho io Andiamo Ho altri 4 Anzi 5 picconi La carne Boh Io direi che siamo messi bene Andiamo Che dici? Ho anche già due bistecche in barra Quindi Siamo full vita Andiamo Ti ha detto qualcosa? A riguardo Non lo so Dei blocchi di legno Messe a casaccio Fai vedere? È bruttissimo Aspetta Sta impazzendo Non è che vuole provare A fare una scultura Di uscita brutta Perché non è opera nostra Questa Magari è negato Misterua a costruire Abbiamo scoperto Il suo punto debole Lo possiamo sfidare Ad una sfida di costruzioni Ma secondo te Ascoltami un attimo Ok È una di quelle cose Di arte contemporanea Come quando vai in un museo Vedi cose strane Ti fanno fighissimo Perché questo rappresenta Il ciclo della vita Della morte In realtà fa Fa schifo Guarda come è scavato Perché ce n'è uno Tutto avanti Poi c'è uno scavetino Torna avanti E torna indietro Vedi Secondo te capito È arte Che noi playbay Non possiamo comprendere Esatto Vabbè appena lo pitti Dovrebbe andarsene Vediamo Vediamo Vai via Di fare la morte Guarda che qui sotto Così è deciso Cioè se tu hai una cosa Una 27 di 35 Bravissimo Bravissimo C'è un fiorillino Com'è un fiorillino Vai Vai No che quella strada Farai Ok No non c'è stato bisogno Mi sono messa qui dietro Vieni Vieni ti devo far vedere una cosa No guarda anche questa robetta Aspetta Eh quella ti volevo far vedere Ma mi ha distratto lo zombie Cioè io devo fare le frasi d'effetto Però Guarda Eh che cavolo Allora ci stiamo picchiando Ci stiamo picchiando Organizziamoci Ok Vai Stanno arrivando all'infinito Ci deve essere uno spawn Andiamo a cercare lo spawn Mi sta venendo il dubbio Infatti secondo me c'è uno spawn Potrebbe Sì 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 Ne ha sonato un altro C'è lo spawn Sono troppi Aspetta che mi metto anche lo scudo Ok Ecco vedi Stavano andando troppo bene le cose Io me li immaginavo Che sarebbe Andiamo Spawn Ma qua non l'abbiamo messa nelle torce Vai davanti Sì l'ho messa io Ok Dove pensi che sia Da quella parte o da questa Difficile dirlo Speravo che spawnassero altri zombie Per seguire la scia Esatto Non lo trovo Ah no ma qua c'è un'uscita Non lo trovo Secondo me stanno semplicemente entrando Perché è notte Quindi entrano da lì Una domanda Ok Ma tu quanto ferro hai? 40 E perché stiamo continuando? Perché non ho controllato Quanto ne avevo Ok No il fatto è che mi stava divertendo Questa avventura Quindi ho detto Vabbè ti ammazzo Oh Stai calma Tu quanto ne hai? 40 Ok Pareggio Ce ne possiamo andare Ce ne possiamo andare Se non è che vuoi provare a trovare L'ignotto della cesta No 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 Perché suppongo che non ci sia uno spawn E che stiano entrando semplicemente perché è notte Ok Siamo in superficie Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ma è notte Quindi dobbiamo stare attenti Se stai così non possiamo Mettere i giorni Vai mettiamo il tressalto Dai Vai Ok Salta ancora Non posso Ti sei incastrata Non sono accorto adesso Resisti Si sto scappando e mangiando Sono villager zombie Che brutti Scappa e mangia costantemente Allora no Stanno seguendo a te Io li picchio nel mentre che seguono a te Scusa Ne approfitto Ok Ok Dai che stanno morendo Ok Ce la sto facendo Ce la sto facendo Aiuto Che ripeto Seguono a te Basta che tu giri in tondo Questi invece stanno seguendo a me Muori Stanno intendo a bruciare Stanno intendo a bruciare Mi stanno dando fuoco pure a me Ok 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 Sto morendo Mangia Mangia Veloce Ci stanno sparando frecce Ti paro Bravo Paro le frecce Eh Casa Dove Eccola eccola Vieni seguimi C'hai trovato casa? Si Ma scherzi? No Scherzi che siamo così vicini? Esatto Che fortuna Non ci siamo allontanati poi così tanto Non ci siamo allontanati poi così tanto Siamo andati solo verso il basso a quanto pare Esatto esatto Meno male Fatto Abbiamo messo tutto nelle ceste Ma cioè quindi a cosa ci è servito il ferro? Io ancora non ho capito dove lo dobbiamo mettere O perché ce l'ha fatto raccogliere Allora secondo me dobbiamo darlo a lui Però non ci ha specificato dove e quando E quando infatti Ascolta io scopo fuori Vediamo se è cambiato qualcosa Se c'è la sua Io ho iniziato a prendere il ferro Andiamo Magari dobbiamo portarglielo nella cesta solita Della volta Ok Abbiamo capito che voleva creare una sorta di torre Quindi non era una scultura Allora aspetta Leggiamo un attimino Lasciate i 70 pezzi di ferro qui E salite sulla torre Ok Non mi piace sta cosa È inquietante Allora i 70 pezzi li ho presi io anche i tuoi Quindi li lasciamo qua Carini Sperando che non li rubi uno zombie Non è che ci succede qualcosa di brutto Non lo so Saliamo andiamo a vedere Che belle scalette Sei coraggioso Sei coraggioso Non mi buttare di sotto Disgraziato Adesso vado a zig zag Così tu non puoi più salire Certo Credici C'è un cartello Buona visione Buona visione In che senso? Non ci credo Che cavolo è successo? Perché? Ci ha fatto esplodere tutto Perché? Ma guarda il buco gigante che si è creato Perché? Ok che non gli piaceva il rifugio Questo è per la felicità di chi ha detto che il nostro rifugio faceva schifo Ma era bellino Cioè per essere una cosa momentanea Era carina Ma poi c'era Pasquale dentro? No Pasquale è scappato Pasquale era già scappato Io non so perché abbiamo iniziato l'episodio Lui è scappato secondo me Capito? Mister Hull Aveva già avvisato Magari l'ha portato via Per non farlo morire Ok che è crudele Ma magari non così tanto E beh dai no Magari Mister Hull è vegetariano No ma poi Pasquale Poveraccio che c'entrava Perché? Tutti i nostri amici verranno puniti Io sono tristissima Non so che dire In ogni caso scendiamo Secondo me ci ha lasciato un messaggio da qualche parte Per spiegarci quello che è successo Secondo me Io ti ho detto che ti odia E ha voluto fare un disperto Ma che c'entro io? Non lo so perché Dove sarà il messaggio? Non lo so Di sicuro non qua A meno che non è venuto mentre esplodeva tutto Ma non credo Ok 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 Ho trovato la cesta Alla fine era qui Bravo Come sempre ti lascio l'onore di leggerla Perché se l'ha detta alle letture Sì sì ormai guarda Parla con un tono un po' più dark Che vuol dire? Non lo so C'è appena esplosa casa Fai le cose drammatiche Ma stai zitto Vuoi un fazzoletto? No grazie Allora il messaggio inizia con Una risata diabolica Io purtroppo non la so fare Spero ci daranno una mano dalla regia Ecco grazie Allora inizio a leggere Ok Finalmente con lo schifo di rifugio Non esiste più Grazie Mr. Wu Io gli spacco la faccia Mr. Wu Prima o poi Gentilissimo Te lo dico Voglio lo scontro 1v1 Ma ci puoi contare Potete stare tranquilli però Ok La prossima sfida Consisterà nel costruire La vostra prima vera e propria casa Questo pure è bello Vedi Questo mi piace Almeno ci sta dando diciamo Il contentino Perché dopo che ci ha distrutto Quello ci costringe a costruirne un'altra Ma va bene Però c'è un'altra pagina E mi preoccupa Ma Ok Tu e Steph Ciao Ferinichi Tutto bene I tuoi genitori come stanno? Cosa È un po' inquietante sta cosa Cioè cosa sta succedendo? Penso che si stia affezionando a me in modo un po' strano Non sono molto felice Ma ha conosciuto pure i tuoi genitori? Eh a quanto pare Io non ne sapevo nulla Ok A quanto pare li ha conosciuti Dovrete sfidarvi Ok Quindi sarà una sfida tra di noi E chi costruirà la casa migliore Vincerà un premio unico Unico scritto in gigante Giusto per sottolineare quanto sarà figo il premio Ok Inoltre la casa del vincitore verrà utilizzata Mentre l'altra esploderà Penso che abbia qualche problema Con le esplosioni Con le dinamiti Sì Un pochettino Capito? C'è Un po' toccato di testa Mettiamola così Ci dobbiamo sfidare Esatto Quindi non dovremmo costruire una casa assieme Ma dovremmo costruirne due Ok E chi fa la casa migliore Avrà appunto il diritto di averla come casa fighissima Non ha specificato Non lo so Chi è che vince Cioè come si sceglie il vincitore Quindi ti propongo una cosa Cosa? Lo deciderà chi ci segue Con i commenti decideranno chi è il vincitore Fatemi vincere No No Votate Steph per i biscotti I biscotti battono Per i nichi Beh ragazzi il video finisce così Se vi è piaciuto lasciateci un bel like E se è la prima volta che vedete un nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione!